Enrico Mentana, Maurizio Costanzo Ne abbiamo due di Telegatti, non uno da dividere a metà Com'è nato questo esclusivo 5? L'idea? Beh, è nata... io e Maurizio avevamo la possibilità di fare qualcosa di molto particolare in un settore forte dell'attualità Ci vuole molta fortuna nel fare queste cose qui, noi l'abbiamo avuta in queste occasioni E abbiamo avuto la possibilità di sostituire un programma e metterci una cosa d'attualità E poi sono abbastanza convinto che più si sta sulle notizie meglio vanno le cose